Una testimonianza ricca di conversione, fede e impegno verso i deboli, i fragili delle nostre comunità. Così Claudia Coll, dopo aver partecipato alla Santa Messa, ha raccontato la sua nuova vita, fatta di lavoro ma anche di impegno e preghiera. Ospite degli incontri culturali organizzati dalla parrocchia Immacolata Concezione di Cannizzaro, nel Catanese, l'attrice non ha mancato di descrivere i particolari del suo trascorso. Dai problemi di salute della mamma, ai rapporti con la nonna cieca e al legame con la Madonna, da sempre esistito ma vissuto in modi differenti. Fino ad arrivare all'esperienza della Porta Santa nel 2000, l'anno del Giubileo. Un momento particolare all'interno della Basilica di San Pietro che ha dato inizio ad un nuovo e lungo cammino con profonde trasformazioni, la maternità e l'avvio dell'associazione Le Opere del Padre. Realtà che oggi vede Claudia Coll molto impegnata, da laica, verso i bisognosi e protagonista nel dare testimonianza del messaggio cristiano, come lei stessa tiene a sottolineare. La mia vita è cambiata nel senso che è più bella, è una vita piena. Ho realizzato molte cose che desideravo e che non sapevo nemmeno di poterle realizzare. Nel 2000 con il passaggio della Porta Santa è iniziata la mia conversione che però ha richiesto anche un periodo di maturazione, non è stata immediata, cioè la riflessione, il mettere in discussione il proprio stile di vita, quindi è ragionata anche, ma aiutata sicuramente da Dio con la sua grazia.